Il Tribunale di Chiaveri Attualmente è uno dei più efficienti, ha zero arretrato, invece così facendo l'arretrato aumenterà a dismisura perché verrà inglobata con Genova e porterà a Genova il carico di lavoro portanto pochi magistrati. Anche perché lo spreco di aver costruito una nuova struttura è chiuderla, lo spreco di chiudere una struttura efficiente e collaudata. Gli avvocati di Chiaveri hanno più volte manifestato il disagio, hanno protestato, hanno svolto dei sit-in davanti al Tribunale di Chiaveri appunto sollecitando la politica affinché non si dia corso all'ennesimo spreco.